Alla comune di Pietrasanta su Facebook che raccontano il successo della manifestazione francigena Toscani Marathon, un time lapse che racconta un'intera serata, nottata e poi mattinata per la cittadina versiliese, da dove è partita la lunga maratona sul cammino di Sigerico, dunque sulla Francigena, a percorso di 42 km, li trovo, vedete, proprio in Piazza del Duomo, poi fino a Lucca per i 42 km. L'evento organizzato dal gruppo Amici della Francigena in collaborazione con l'amministrazione comunale e il supporto della parrocchia del Duomo. In tantissimi, in 2000, hanno affollato la piazza, hanno dormito nei bed and breakfast, alberghi della Versilia, anche il comune plaude all'iniziativa e parla di successo, anche di presenze, soddisfatta l'assessore alle tradizioni popolari, Lora Santini. Il gruppo poi ha attraversato Camaiore e il territorio di Massarosa per raggiungere Lucca. Immagini, timelapse, postate da Omar Biagi e poi ripubblicate anche dal comune.